Nel match valido per la settima giornata del campionato di serie di Girone F, il Pineto vince per 1-0 tra le Muramiche contro il Montegiorgio. In vantaggio nella prima frazione i Biancazzurri con Maio, nella ripresa i Rivieraschi collezionano il terzo successo consecutivo e l'aggaggio in cima alla classifica. Calcio d'inizio per gli ospiti, primo squillo del Montegiorgio, Marini rompe le linee avversarie e conclude dal limite di poco sul fondo. Risponde il Pineto al ventesimo, Allegretti cecchina, il palo alla destra di Forconesi, il portiere ospite smanaccia in corner. Al quarantaduesimo si sblocca finalmente la contesa, ruba palla all'undici di casa, Allegretti pesca perfettamente Francesco Maio che non ha problemi a sugellare l'1-0 abruzzese. Nella ripresa il Pineto prova subito a raddoppiare lo sicco pennella, Forconesi disinnesca dalla parte opposta, Antichi penetra in area. Ma viene fermato dalla retroguardia di casa sulla ripartenza albanesi, commette fallo di frustrazione e viene ammonito immediatamente. Però per una parola di troppo colleziona il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Dalla parte opposta prova subito a massimizzare l'undici di Daniele Amaolo. La situazione è insistita, Traini va a centimetri dal 2-0, il Montegiorgio non demorde, vuole il pari, Pampano su punizione, prende la mira. Mercolelli devia in corner, non succede più nulla. A parte un gol annullato per fuorigioco, il Pineto vince per 1-0 tra le muramiche contro un ostico Montegiorgio. E aggancia in cima alla classifica le altre due pretendenti al campionato, Avezzano e Fano. Fano